Fa più rumore un albero che cade, che viene abbattuto, di una foresta che cresce. Io penso che questa realtà di l'Italia come paese forestale non sia una realtà ancora molto percepita dalla popolazione italiana e nemmeno dai nostri amministratori e dai politici, però è un dato di fatto. Grazie a tutti. In Italia abbiamo più di 10 milioni di ettari di foresta. Un terzo del patrimonio italiano, dei terreni italiani, sono coperti da foreste. In termini percentuali la Francia e la Germania hanno meno superficie forestale dell'Italia. Grazie soprattutto all'espansione naturale del bosco, un processo spontaneo che abbiamo visto crescere progressivamente la superficie forestale in questi ultimi 50 anni. Un processo che ha portato dagli anni 50 a raddoppiare la superficie forestale e questo raddoppio della superficie forestale è la più grande trasformazione nelle forme di uso del territorio italiano a cui abbiamo assistito. Questo fa sì che l'Italia sia composta da tipologie di foreste molto molto diverse. Da una parte boschi maturi, boschi che avrebbero bisogno di essere rigenerati, abbiamo piantagioni fatte negli anni 50 e 60 ma anche tra le due guerre mondiali che devono essere curate e dall'altra parte abbiamo anche boschi molto giovani derivanti da questi processi naturali di colonizzazione. Grazie a tutti. Enrico De Luca diceva l'altro giorno che l'Italia in realtà non è uno stivale, è un lungo braccio che porta un fazzoletto, ovvero la Sicilia e questo fazzoletto saluta l'Africa. Lui parlava di gente, di popoli che sono passati dall'Italia, però in realtà vale benissimo per le nostre foreste, per la nostra vegetazione. Noi non dobbiamo dimenticare che l'Italia detiene il primato della biodiversità in Europa, più della metà delle specie vegetali, più un terzo delle specie animali vivono e questo grazie al sistema dei parchi nazionali, 24 parchi nazionali, 142 parchi regionali, le riserve statali, l'11% del territorio nazionale è area protetta. A questo poi si aggiungiamo le aree sicche, ZPS e nessuno immagina ancora che al sud ci siano queste bellezze, anzi forse le aree protette più grandi stanno proprio al sud. Le foreste italiane sono alquanto varie, cioè si va dalla foresta mediterranea, sempre verde, dal leccio, dal lentisco, da tutte piante coriacee, adattate a un ambiente piuttosto difficile, a foreste di conifere, di larici in alta quota. L'Italia è stata un crocivia di specie e di tutte queste specie ne ha fatto tesoro. Se vogliamo quantificare la biodiversità come numero di specie possiamo dire che la metà delle specie vegetali presenti in Europa, parlando di piante vascolari, insomma piante superiore, è presente in Italia. Sono 6700 specie e parlando di specie animali un terzo di tutte quelle presenti in Europa sono presenti anche in Italia, il che è una ricchezza enorme. Però parlare solo di numero di specie è assolutamente riduttivo. È riduttivo perché tutte queste specie e anche grazie alle interazioni che ci sono tra le specie e l'ambiente che le supporta, insomma la parte abiotica degli habitat, forniscono una serie di servizi indispensabili alla vita, acqua pura, aria pura, medicine. Tutto questo sono i cosiddetti servizi ecosistemici che derivano appunto della biodiversità contenuta negli ecosistemi. In effetti c'è una parte dei prodotti e servizi che vengono forniti dal settore forestale che viene registrato dalla contabilità nazionale e questo riguarda soprattutto il legname. Ma c'è una parte molto significativa di servizi senza prezzo, di beni pubblici come vengono chiamati, che sono fondamentali per il mantenimento della stabilità del nostro sistema ambientale e del sistema produttivo. Pensate alla tutela della biodiversità, alla tutela del fenomeno di erosione, pensate alla stabilizzazione climatica, alla regolazione del ciclo dell'acqua. Tutta questa serie di servizi non rientrano nella contabilità nazionale, eppure evidentemente sono di fondamentale importanza e su questo dobbiamo investire. Un bosco di pianura oggi non ha solo una funzione produttiva, ma è importantissimo anche per la tutela della biodiversità. Il bosco delle sorti della partecipanza di Trino è uno dei relitti dei boschi planiziali padanoveneti. È steso su circa 600 ettari, che sono di questa proprietà medievale della partecipanza. I soci di questa proprietà indivisa ogni anno esercitano il loro diritto di tagliare il bosco, estraendo una sorte. Dal 1991 la partecipanza ha accettato la proposta regionale di divenire un'area protetta. E adesso è anche un sito della rete Natura 2000, sia come sito di importanza comunitaria e sia zona di protezione speciale per la vifauna, in quanto ospita una delle garzaie più importanti d'Italia. La superficie è di circa 600 ettari, per la maggior parte è un tipico querco carpinetto di pianura, e poi vi sono una trentina di ettari di zone umide e paludi a un tano nero. In questa immagine vediamo come si presenta il bosco in primavera. Viene chiamato la zattera galleggiante dalle risaie e in effetti è l'unico lembo all'interno dei 100 mila ettari di risaie che ha conservato la vegetazione originaria. La partecipanza ha aderito al progetto regionale di area protetta attraverso la strutturazione di un piano d'assestamento forestale, sacrificando una parte delle utilizzazioni forestali per migliorare la struttura e la qualità del bosco di pianura. Ora siamo già al sesto anno della revisione, quindi al ventunesimo anno di gestione pianificata, e con interventi in governo misto di Ceduo e Fustaia si prelevano all'anno 15-20 mila quintali di legna, fino ad oggi principalmente legna da ardere, ma cominciano di nuovo a esserci querce mature che possono essere utilizzate, e quindi è una realtà che ha un importante significato economico e sempre più anche quello conservazionistico. La gente non sa quanto la foresta tuteli i manufatti dell'uomo, tuteli le opere dell'uomo a valle. La foresta di Giazza, per quanto riguarda Veneto e Ripoltura, la regione del Veneto, è una delle foreste per noi più importanti, non solo per la sua dimensione, per il suo valore economico, ma soprattutto per quella che è la sua storia. Ci piace ricordare che è una foresta artificiale, quindi non è un qualcosa che abbiamo trovato già fatto dalla natura o dagli uomini nei secoli precedenti, è una foresta che ha dietro un progetto. La foresta di Giazza è stata inaugurata nel 1911, è stata portata avanti questa grandissima opera di realizzazione della foresta, in quanto a seguito di eventi particolarmente luttuosi, particolarmente pesanti, in termini di piene e desondazioni nella valle di Lasi. Vennero portate avanti tutto questo tipo di opere che sostanzialmente si distribuiscono su tre filoni principali, la sistemazione dei versanti per prevenire l'erosione, la sistemazione delle aste fluviali, dei vari torrenti secondari che poi andavano, vanno tuttora ovviamente ad alimentare l'asta principale del revolto e l'opera di rimboschimento. Questa è una foto che riproduce sul piazzale di quello che attualmente è chiamato rifugio revolto, all'epoca osteria revolto, si tratta degli inizi del secolo. La cosa interessante è notare tutta la fascia che sta alle spalle delle persone riprese, in quanto si vede che si tratta di superfici assolutamente nude. Si tratta adesso di zone che sono assolutamente ricoperte da una copertura di carattere di tipo forestale. Se attualmente noi ci poniamo lungo la strada che sale al rifugio Scalorbi, nell'attuale parte trentina della foresta, anche attualmente dovessimo andare nello stesso punto, nel medesimo punto da cui è stata scattata questa foto, non saremmo praticamente in grado di vedere lo sviluppo della strada in tutti i suoi tornanti, in quanto completamente schermati dalle quinte arboree. Dopo 100 anni, perché quest'anno festeggiamo il centesimo anniversario, possiamo dire che quel progetto è perfettamente riuscito, oggi è una foresta florida, una foresta che si rinnova, che dà ricchezza da tutti i punti di vista, sia in termini di prodotti, il suo legname, che in termini di servizi, la difesa idrogeologica, ma ancora di più la fruizione turistica. Se è vero che la foresta è nata principalmente con un obiettivo, con uno scopo di difesa, di tutela del territorio e anche delle opere umane che c'erano a valle, attualmente l'altro aspetto assolutamente fondamentale, assolutamente imprescindibile della foresta è quello estetico-ricreativo. Sicuramente il turista che va a ricercare la bellezza del bosco, la possibilità di fare delle escursioni, una cosa che attualmente viene portata avanti da moltissimi. Abbiamo parecchi problemi degli incendi nelle aree mediterranee, fare dei tagli accurati, intelligenti, corretti e controllati significa anche mantenere bene i nostri boschi, mantenerli e farli provvedire verso uno stato di maggiore stabilità e di ricchezza. La pileta di Porto Selvaggio è una pileta artificiale, impiantata circa 60 anni fa e ben si inserisce in un contesto naturalistico mediterraneo. Questo è un parco regionale di alcune centinaia di ettari e da essere una landa abbastanza desolata, percorsa da incendi e con un sacco di problemi dal punto di vista gestionale, è diventata uno dei posti più conosciuti di tutto l'arco ionico della Puglia. Analogamente a Porto Selvaggio ci sono parecchi altri rimboschimenti, sia sul litorale ionico che sul litorale adriatico. La Puglia ha circa 16 mila ettari di rimboschimento, quasi tutti a Pino d'Aleppo, in buona parte lungo le zone litorane. Queste pinette litorane molto spesso sono state abbandonate dopo i rimboschimenti degli anni 50-60 realizzati dal Corpo Forestale e dal Ministero. Ci sono stati dei momenti di abbandono, per mancanza di finanziamenti soprattutto. Negli ultimi 15-20 anni c'è stata una ripresa pian piano. Si è riuscite a recuperare queste zone. Le squadre di operai del posto sono riuscite a ripristinare la sentieristica, anzi a farne di nuovo a scopo di tutela antincendio, a fare interventi sui boschi, sulla pineta cercando di diradare, togliendo le piante morte in eccesso, a fare un'altra serie di interventi prettamente servicolturali, ma soprattutto hanno creato un sistema di sorveglianza e anche di sicurezza che ha permesso la fruizione da parte dei turisti. Prima questa è una zona assolutamente in via di degrado, adesso è uno dei migliori parchi regionali dell'Italia meridionale per come è tenuto e soprattutto è abbastanza protetta dal rischio incendi che è la piega principale di questa zona. Le foreste hanno un ruolo importante nella strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Le piante, grazie all'attività fotosintetica, assorbono all'idride carbonica dall'atmosfera. Una parte minima la restituiscono immediatamente con la respirazione, una parte invece consistente viene immagazzinata per periodi più o meno lunghi, da qualche anno a diversi decenni fino a secoli, nelle radici, nel tronco, nei rami e nella chioma. Consideriamo una pianta di queste dimensioni, circa 1,20 m di diametro e 10 m di altezza, in circa 100-110 anni di vita è stata in grado di fissare circa 10 tonnellate di carbonio. Un ettaro di foresta può contenere, a seconda delle tipologie, da poche decine fino a diverse centinaia di tonnellate di anidride carbonica. Il protocollo di Chioto, l'accordo internazionale che impegna i paesi industrializzati a ridurre di una certa quantità le emissioni di gas di serra in atmosfera, ha riconosciuto questa importante funzione delle foreste e gli ecosistemi vegetali in genere e consente agli stessi paesi di compensare parte delle emissioni in atmosfera derivanti da altri settori produttivi, dall'agricoltura all'industria e al turismo, attraverso interventi di protezione e conservazione delle foreste già esistenti e di creazione di nuove foreste che vanno ad incrementare il patrimonio forestale nazionale. Tutela della biodiversità, regolazione del ciclo dell'acqua, mantenimento della qualità del paesaggio, fissazione di carbonio, servizi che la buona gestione forestale fa sì che vengano erogati in moltissimi casi senza alcuna forma di remunerazione del proprietario forestale. però su questo stiamo facendo un ragionamento, un ragionamento che vale anche per le foreste di tutto il mondo, è uno dei temi centrali del dibattito a cui assistiamo in questo anno internazionale per le foreste ed è il ragionamento intorno alla creazione di un sistema di pagamento dei servizi ambientali. È possibile che i boschi italiani abbiano una funzione così significativa, così importante di fissazione di carbonio e quindi contribuiscano in maniera veramente significativa alla possibilità di raggiungere quell'obiettivo che il governo si è dato entro il 2012 di ridurre le emissioni di gas di serra del 6,5% rispetto al 1990 e che i proprietari forestali, coloro che fanno buona gestione forestale, non siano in alcun modo compensati per questa funzione. eppure sappiamo di quanto crescono i boschi, sappiamo quanto CO2 fissano ogni anno, sappiamo che alcuni settori industriali sono tassati e sono tassati anche abbastanza pesantemente attraverso il sistema del mercato delle quote per ridurre le emissioni e perché se tassiamo alcuni operatori italiani, non possiamo utilizzare lo stesso criterio per compensare i gestori forestali che fanno un servizio analogo ma di segno opposto. Per quanto riguarda la valorizzazione dei servizi ecosistemici, per far sì che questo immesso patrimonio forestale venga messo a frutto anche nel nostro Paese, la prima strada da abbattere è quella di una quantificazione anche monetaria dei benefici che le foreste apportano con le loro funzioni per esempio di assorbimento del carbonio o di presidio al disesto idrogeologico. Questa quantificazione ci servirà da un lato per far entrare nella contabilità ambientale che deve diventare lo strumento di guida delle politiche e di gestione del territorio e dall'altra ci aiuterà a determinare le risorse finanziarie che devono e devono essere destinate al settore forestale per mantenerlo in efficienza. L'Italia forestale di questi anni è un'Italia in cui i boschi ci crescono spontaneamente e che devono essere gestiti in maniera intelligente, in maniera controllata, ma in maniera attiva. Altrimenti questi boschi vanno soggetti a fenomeni di abbandono e noi sappiamo, è l'esperienza di questi anni che un bosco che non vale è un bosco che è abbandonato ed è un bosco che va incontro a fenomeni di degenerazione, in primis gli incendi. Quindi proprio per ridurre i costi della tutela del patrimonio forestale italiano dobbiamo far sì che questo patrimonio produca prodotti e servizi, possibilmente prodotti e servizi commerciali e prodotti e servizi pubblici compensati da parte di chi ha responsabilità di gestione di questo patrimonio. È solo così che il proprietario forestale potrà essere attaccato al proprio terreno e gestirlo in maniera corretta. Questo implica un passaggio fondamentale di mentalità e di orientamento delle politiche forestali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.